Accreditamento ed inserimento nell'area vasta Emilia Centrale. Sono stati questi i due avvenimenti più importanti che hanno impegnato e segnato l'Avis Provinciale di Ferrara nel triennio che si è appena concluso. Un impegno che ha più che dimezzato i punti raccolta nel territorio ferrarese, ma che non ha ridotto le donazioni di sangue. Un lavoro enorme. Primo l'accreditamento pensavamo ad aver fatto chissà cosa, poi dopo è arrivato l'ingresso in nave che abbiamo visto che quello che abbiamo fatto con l'accreditamento era un divertimento. Divertimento che ci ha portato a ridurre le sedi da 36 a 16, che ci ha portato a collaborare con la FIDAS di Renazzo in modo splendido e vorrei che fosse ad esempio per tutta la regione questo fatto. Abbiamo avuto, come pensavamo, un calo subito delle donazioni, ma meno di quello che temevamo, meno delle altre province. Il 2015 si è stabilizzato il dato, il 2016 siamo in ripresa e i nostri donatori hanno donato 2,1 in più dell'anno scorso. Quindi questo è un dato di fatto, vuol dire che i donatori sono più forti dei campanilismi. Abbiamo l'assemblea di rinnovo delle cariche che è importantissima nell'ambito della nostra organizzazione. Ogni 4 anni i dirigenti vengono rieletti e portano avanti un nuovo mandato, quindi con nuovi programmi, nuove idee e possibilmente anche nuove persone. Mi fa molto piacere che a Ferrara ci sia un rinnovamento, ci siano parecchi giovani che entrano all'interno del organo direttivo provinciale e porteranno immagino una ventata nuova a cui credo farà bene non solo la nostra associazione ma anche tutto il volontariato ferrarese. La ricerca, insomma, quanto è importante per l'Avis? Beh, la ricerca scientifica direi che è andata di pari passo, il progresso tecnico, scientifico in campo ematologico è andato di pari passo con la crescita della storia dell'Avis a livello nazionale e anche nella periferia. I rapporti con le università sono saldissimi, debbono essere ulteriormente incrementati perché riteniamo che un vivaio di intelligenze formidabile come quella dell'università è un patrimonio, un potenziale patrimonio per la vita dell'associazione. La 66esima Assemblea dell'Avis provinciale si è tenuta ad ostellato lo scorso 25 marzo, dove durante i lavori si sono tracciati gli appuntamenti per il 2017, anno quest'ultimo che segna per il nazionale il novantesimo della nascita dell'associazione che oggi conta più di 1.300.000 donatori con 22 sedi regionali, 121 sedi provinciali e 3.418 sedi comunali. Proprio quest'anno diverse sezioni comunali compieranno 50 anni, tra queste Ferrara ed Ostellato. Guardi, è il minimo sacrificio per fare una cosa che è veramente meravigliosa. Sai che hai salvato persone, hai salvato vite umane. Compiamo 50 anni dalla fondazione, allora in definitiva siamo candidati, hanno accettato la candidatura, e di conseguenza siamo qua, la giornata c'è molto propizia, i lavori procedono benissimo, la sessione di ostellato funziona benissimo. La chiusura di molti punti di raccolta in provincia di Ferrara ha portato qualche malumore, ma c'è la consapevolezza che l'importanza dell'atto della donazione del sangue vada oltre le possibili polemiche. Ma noi lo sapevamo che avremmo creato dei dispiaceri, ma è umano questo. Un presidente è una sezione che ha un punto di raccolta, che è un punto di socializzazione, che è un punto di ritrovo, che è un punto di un momento felice per tutti. È chiaro che andare a togliere quel momento di raccolta avremmo creato dei problemi. Noi non vogliamo che vengano tutti a Ferrara, perché abbiamo fatto a Codigoro, abbiamo allargato la sede, a Mesola, Goro, Gorino, a Copparo, cinque sezioni affluiscono a Copparo. Quindi ad argenta, tre sezioni affluiscono ad argenta. È certo che in quelle sezioni donano alcuni giorni all'anno, mentre l'unità di raccolta di Ferrari è aperta tutti i giorni, è aperta giovedì pomeriggio e una domenica al mese. Adesso aumenteremo i pomeriggi, probabilmente aumenteremo l'orario d'apertura dalle 11.30 alle 12.30 a tutti i giorni, e aumenteremo le domeniche, proprio per far sì che abbiano i donatori la miglior possibilità di scegliere tra. Perché il ragazzo giovane non dona alle 7, viene alle 10.30 a 11.00. Quindi bisogna anche spingere per la prenotazione, in modo che i donatori che arrivano prenotati, come per la plasmaferisi, hanno la precedenza. Un orario quindi più personalizzato? Sì, abbiamo bisogno di farlo, perché noi perdiamo ogni anno 1.000 donatori per pensionamento, quindi i donatori anziani che vanno in pensione e che hanno sempre donato almeno due volte all'anno l'indice di donazione. I ragazzi giovani donano un po' meno. Per fortuna il nostro gruppo scuola ha fatto sì che quest'anno ci siano state 167 nuove donazioni in più. Tante le collaborazioni siglate da Avis in questi anni con le altre associazioni del territorio. Tra queste la forte intesa con l'ATMO, l'associazione di midollo osseo di Ferrara. Questa associazione insieme a Avis negli ultimi 4 anni ha portato Ferrara a dei risultati incredibili. Siamo i primi in regione per numero di donatori inseriti ogni anno. Pensate che nel 2016 se ne sono iscritti 1.063, che sono veramente un numero molto alto. Abbiamo fatto anche 9 donazioni che corrispondono a un terzo delle donazioni di tutta l'Emilia Romagna. La nostra associazione ha come obiettivo lo scopo proprio di dare a tutti quelli che hanno patologie oncoematologiche, che non rispondono ai farmaci ma che hanno bisogno di un trapianto di cellule staminali emopoietiche o midollo osseo, è quella di poter trovare un donatore compatibile. La probabilità è di 1 a 100.000, quindi è qui che nasce la necessità di essere davvero tanti. Come per il provinciale, anche per l'Avis dell'Emilia Romagna si avvicina il momento di nuove elezioni per un nuovo mandato. Anch'io ho finito i miei due mandati statutari per cui cedo il testimone e sono molto contento di quello che è stato fatto a livello regionale. In questi 8 anni abbiamo portato avanti un'idea di volontariato, di donazione del sangue, consapevole, periodica, anonima, gratuita. E questo ha portato la nostra regione a un livello molto alto, a livello nazionale e anche internazionale. Di questo io ringrazio tutti i collaboratori che hanno partecipato con me a questa bellissima avventura e cedo volentieri il testimone che verrà dopo di me per portare avanti ancora una idea di solidarietà attiva che è da 90 anni, questo è il nostro novantesimo anniversario di fondazione dell'Avis in Italia, da 90 anni pervade la nostra società. La vostra eredità dovrà essere raccolta, da dove devono partire? Quale suggerimento? Innanzitutto partire con l'ascolto. Noi dobbiamo ascoltare di più le nostre sedi locali, dobbiamo ascoltare i nostri soci, dobbiamo ascoltare le istituzioni, dobbiamo ascoltare quelle spinte che vengono dalla società civile e che ci chiedono una maggiore presenza, una maggiore attenzione soprattutto ai deboli, soprattutto ai malati. Quindi la nostra preoccupazione massima deve essere quella di non far mancare la cura fondamentale che noi possiamo donare con il nostro atto consapevole che è quello del sangue ma anche e soprattutto quello del plasma. Ecco l'altro argomento importante è la donazione di plasma che serve per produrre farmaci salvavita fondamentali per tanti e tanti ammalati. Il progresso ha fatto sì che dalla donazione, prima parlavo, dicevo, sono 90 anni che noi siamo sul terreno, sul territorio, dalla donazione braccio a braccio, come si diceva i primi anni ad oggi, è stato fatto un grandissimo cammino. Noi non ci siamo mai sottratti all'impegno della grande qualità e sicurezza. Il sangue che viene donato deve essere totalmente sicuro. Il prelievo di sangue deve essere totalmente sicuro per il donatore, il sangue che verrà donato deve essere totalmente sicuro per il ricevente. E tutto questo ovviamente sarà frutto della collaborazione che è sempre stata e che continuerà ad esserci fra l'associazione di volontariato, che ho l'onore di rappresentare, e il mondo scientifico della comunità scientifica dei trasfusionisti. L'Assemblea di bilancio e del rinnovo cariche presenta così un nuovo gruppo di lavoro per il mandato 2017-2020, che per l'Aves provinciale di Ferrara vede già tre date fissate in agenda. Tre appuntamenti importanti. Abbiamo iniziato a trattare Concento con il sindaco e entro la fine di questo mese il sindaco ci dirà come ci viene assegnata la nuova sede di Cento. Lì dovremo lavorare, impegnare dei fondi importanti e verrà una sede molto bella, di fronte alla COP, in tangenziale, con depoio e con tutto. Molto molto bello. Devo ringraziare il sindaco e la sovrintendenza delle belle arti, che ci ha concesso di lavorare all'interno di una struttura controllata dalla sovrintendenza. D'accordo con loro faremo tutto. Poi il sindaco di Poggio Renatico, che sono arrivati i fondi per ristrutturare il castello, ci ha assegnato quasi 200 metri nella sede. Lì sarà più lunga, mentre 100 confidiamo di finire entro il 2018. Quindi questi sono gli impegni. Poi l'ultimo di ieri, che sono stato alla spalla, la spalla che sta andando fortissimo, il direttore ci ha detto lasciami stare questo mese, perché è un mese importantissimo. Poi faremo una conferenza stampa e avremo i giocatori della spalla come testimonial per quel motivo che noi abbiamo sempre detto, che Avis ama lo sport.